La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, in questa santissima notte nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i Suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella preparazione al sacramento. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla Sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. O Padre, per mezzo del Tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della Tua gloria. benedici questo fuoco nuovo, fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello Spirito alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore, amore. Signore, amore. Signore, grazie. Divocchi. Ieri. Ieri. E addoscia? Cosa? Cosa? No? Cosa? 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 Il Cristo, ieri e oggi, principio e fine. Alfa e Omega, a Lui appartengono il tempo e i secoli. A Lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Amo. La luce di Cristo, che risorge e glorioso, disperda le tenebre dal cuore e dallo spirito. Amo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.